Che ne pensi di Youtube? Ma che sono i dubbi? I dubbi dentro gli scarichi Allora nonna Youtube è un sito di condivisione di video, talenti gente che è emergente semplici e vogliate dimmi che cosa ne pensi della gente che si mette in evidenza e che prova emerge con Youtube non da neve il lancio che si sta lì è un bello ma che ne penso io di queste chiacchiere Youtube no penso solo che sono tutti stronzi eh tu sai che quando eravate piccolo eravate e siete venuti assi un ucino si non lo so non posso ricordarlo ma sicuramente c'è volamento affuscato dai corsetti composi ecco un altro che ne pensi del lato oscuro? mi sta sbagliando la nera questa cosa che ne pensi del lato oscuro? il lato oscuro il lato oscuro di Youtube si non ti devo dire beh a me il buio mi fa paura si perchè? eh non lo so però il lato oscuro è sfina il nero sfina se dovrei stare una camera chiusa a buio ma lo sai che tu fai parte del lato oscuro si? del lato? del lato oscuro fai parte anche tu uscire dalla porta di destra per favore uscire dalla porta di destra per favore mettiamo gli orsetti gommosi a me mi piacciono gli orsetti gommosi si mangerei un fiume di orsetti gommosi adesso si si sono buoni gli orsetti gommosi ne abbiamo provato gli orsetti gommosi? no ne abbiamo provati con il latte caldo? no buonissimo come i cereali di cereali? ti piacciono? ne abbiamo provati? i cereali? si fantastici se sciolgono in bocca in specie con il latte caldo? buonissimo si